Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto la partita con il Cagliari, abbiamo giocato oggettivamente meglio, secondo me abbiamo giocato finalmente una buona partita, soprattutto palla a terra. Finalmente ho visto un Milan giocare palla a terra, un Milan che al di là dell'avversario che oggettivamente era molto chiuso, cerca costantemente di forzare l'azione, cerca costantemente di continuare a giocare palla a terra. Quindi sono estremamente contento della prestazione del Milan, mi sono piaciuti tantissimo i nuovi innesti, quindi Oka, Forza Centrale, Ciuguezza a destra, Adli vertice basso, a me loro tre personalmente sono piaciuti tantissimo, mi ha fatto impazzire soprattutto Adli. Ho sentito qualcuno criticare Adli per il gol di Lovumbo Zito, lì le follie sono tante, sicuramente Adli sbaglia a passare il pallone di tacco per cercare di liberarsi dalla marcatura di Lovumbo, però ragazzi nessuno li chiama Nandez. Se qualcuno avesse chiamato Adli Nandez, probabilmente Adli avrebbe evitato di fare quel tacco e protetto il pallone, lui pensava di avere soltanto Lovumbo e se ci fosse stato soltanto Lovumbo effettivamente la palla sarebbe andata via dalla disponibilità del giocatore del Cagliari. Quindi sotto quel punto di vista io non riesco a criticare il buon Adli, però secondo me ripeto il Milan ha giocato un'ottima partita, mi è piaciuto tanto praticamente tutto, molto bene l'Oftus-Cic nel secondo tempo, meno bene nel primo, ha fatto fatica e ottima la reazione della squadra, quella secondo me è la cosa più importante. Aver visto un Milan reagire bene, molto bene, ha uno svantaggio con il Cagliari, che poi si è difeso per praticamente 45 minuti, a me fa godere, fa godere particolarmente perché vuol dire che i ragazzi sono rimasti concentrati sulla partita, non si sono fatti demoralizzare da un gol del Cagliari arrivato anche in maniera abbastanza furtuita, male però sul gol. Non possiamo fare queste dormite difensive, non possiamo rischiare così tanto sulla protezione del pallone, è la palla nostra, l'aveva recuperata Adli, non puoi perderla in quel modo e soprattutto non puoi essere così passivo sulla seconda palla. Quindi sotto quel punto di vista meno bene, però ragazzi ma oggi ho visto un calcio, ma ho visto un calcio con quei giocatori lì, se noi avessimo avuto Giroud e Krunic al posto di Adli e Okafor nel primo tempo non avremmo mai rimontato la partita. Ma ve lo do per certo, sono sicuro al 100% che se noi avessimo avuto quei due giocatori lì in campo e avessimo subito gol dal Bumbo Zito non saremmo mai, mai andati in vantaggio sempre nel primo. Quella è la cosa che mi ispira di più, quella è la cosa che mi fa più piacere, vedere un Milan propositivo sempre, vedere un Milan che spinge, che non si arrende, che sa giocare palla a terra. Ragazzi finalmente giochiamo palla a terra, io non ho visto una palla lunga, non ho visto una palla lunga, finalmente io nel Milan non ho visto una palla lunga perché non c'era nessuno a cui appoggiarla. E quindi eravamo costretti a fare gioco orizzontale, Reinders fenomenale, ha un'intelligenza calcistica fuori dal comune, ok? E finalmente riusciamo a giocare senza dover essere costretti costantemente al lancio lungo, senza essere costretti ad appoggiarci sul Leao. Quella è la cosa che mi ha fatto più piacere, per assurdo il Milan ha giocato peggio dall'entrata di Leao, il che non vuol dire che Leao sia il male del Milan, ma chiaramente la partita era in ghiaccio, avevamo già segnato il 3-1. Grandissimo gol di Loftus, ripeto, mi ha fatto impazzire, lì mi ha gasato da morire, finalmente ha iniziato a calciare da fuori anche lui. Abbiamo anche Reinders che sa calciare da fuori, abbiamo Ciukwez e finalmente abbiamo dei cazzo di giocatori che sappiano calciare da fuori. Tutto bene nel Milan, veramente, non riesco a trovare un punto negativo se non quella dormita difensiva sul primo gol, ma anche quando abbiamo rischiato negli 1-1 in fase di transizione, dopo i recuperi palla del Cagliari a metà campo, sempre precisi, sempre puliti. Nonostante effettivamente tu rischiassi costantemente, ma io apprezzo il rischio, io sono contento di vedere un Milan che rischia, che si prende la responsabilità di determinate giocate. A me, personalmente, fa impazzire. Io sono più incontento nel vedere una squadra rischiare l'uno contro uno, un po' come faceva il City, prendendosi oggettivamente il rischio di quelle che sono situazioni che ti possano portare a subire un gol se non difendi in modo attento. Però, complimentissimi a tutti i ragazzi, mi è piaciuto anche Florenzi, adesso pensandoci, secondo me Florenzi ha fatto una buona partita. Per fare quello che faceva Calabria nelle prime 4-5 giornate, forse Florenzi è un po' più adatto perché è un piede migliore. Però, veramente, tanta roba, tutti molto bravi. Pioli, per la prima volta, secondo me non ha sbagliato neanche i cambi. Io l'avevo criticato per la scelta di non togliere Loftus a Monito, invece ha avuto ragione lui, quindi sotto quel punto di vista devo chiedere scusa a Stefano Pioli, ma lo sapete che quest'anno lo difendo a spada tratta, lo sapete che quest'anno io continuerò a difenderlo all'infinito. Musa, finalmente, vertice basso. Abbiamo visto Musa, vertice basso, per la prima volta al posto di Adli e abbiamo visto come la sua capacità di rompere il ritmo con il primo controllo ti dà la possibilità di avere delle transizioni offensive molto più rapide. Ed è per quello che io vorrei Musa in quel ruolo, perché mi sembra un giocatore più adatto a subire la pressione e ad uscire palla al piede. Adli, però, non lo so condannando, anzi, ripeto, Adli è uno dei migliori in campo. Nel primo tempo aveva il 13% di possesso palla di tutta la partita, per farvi capire. Ha toccato un sacco di palloni e li ha toccati quasi tutti bene. Gli ho visto fare delle ottime aperture. Posso dirlo? Lo dico? Adli potrebbe essere, per questo Milan, quello che era Pirlo per quel Milan. Ovviamente con le giuste contrapposizioni, con i giusti parallelismi, accettando che il Milan adesso sia di un livello inferiore, accettando che Adli sia di un livello inferiore a Pirlo, ma è un giocatore che ti permette di rallentare il ritmo e creare esplosività quando c'è bisogno di fare. Quando c'è bisogno di alzare il ritmo, Adli sa farlo. Ma quando c'è bisogno di rallentarlo, così da far abbassare l'attenzione della squadra avversaria, Adli è praticamente perfetto. Quindi mi piace tanto, mi piace tanto Adli e spero possa giocare il più possibile in quel ruolo, anche se già so che con il rientro di Grunic giocherà lui, però Musa e Adli vertici bassi nettamente migliori di Grunic. Al di là di questo, vittoria che ti porta in testa alla classifica a fare i punti con l'Inter che ancora deve giocare. Vediamo cosa farà l'Inter stasera, secondo me è una partita abbastanza semplice, soprattutto in casa con il Sassuolo che, al di là della vittoria con la Juventus, non mi sembra una squadra estremamente pericolosa. Però sono rimasto piacevolmente sorpreso, sono sincero, perché sull'1-0 ho iniziato a vedere i fantasmi di tante partite dell'anno scorso, invece quest'anno siamo una squadra diversa, siamo una squadra più forte, non solo a livello di testa, perché queste partite non le vinci con la testa, le vinci con la qualità e di qualità ne è tanta. Bellissimo lo schema sul secondo gol, parla perfetta di Adelip e Reinders, controllo perfetto di Reinders che prende il tempo e palla e mezzo data con i tempi giusti. Sicuramente sul primo gol colpevole Radunovic, ma anche lì la lucidità di Okafor che poco prima si era mangiato un gol nel spostare la palla con la suola e calciare di Mancino è un qualcosa da non so attualutare, è una dimostrazione totale di consapevolezza dei propri mezzi e questo mi fa piacevolmente piacere, scusate il gioco di parole. In ogni caso, sicuramente nella live di domani ne parleremo meglio, avremo più tempo e spazio per dire la nostra, ma mi raccomando lasciate like, commentate e ditemi cosa ne pensate e soprattutto ricordatevi che il Milan quest'anno lotterà fino alla fine per lo scudetto. Ciao!